I carabinieri di Leni hanno denunciato 4 ragazzi maggiorenni abitanti a Mappano perché ritenuti responsabili di danneggiamento aggravato commesso il 28 luglio 2017 all'interno dell'ex asilo comunale di Mappano di via Costa 17. Erano entrate nel edificio e avevano utilizzato un idrante antincendio per allagarlo. Inoltre avevano appiccato diversi incendi utilizzando carta e materiale plastico. Il gruppo di vandali è stato identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza installate nella struttura. I fermati hanno ammesso le loro responsabilità e hanno dichiarato di averlo fatto per puro divertimento. Uno dei membri del gruppo ha filmato il raid con il proprio telefonino con l'intenzione di pubblicarlo sui social. Il gruppo di vandali di pubblicarlo sui social. Il gruppo di vandali di pubblicarlo sui social.